Così come gli altri campionati motoristici che tratto sul mio canale è tempo di bilanci una volta concluso e dunque parliamo di promossi e bocciati, parliamo del pagellone Formula 1 2020 in cui andremo ad analizzare tutti i piloti che hanno preso parte a questa stagione di Formula 1 2020 andando a dare un giudizio sulla loro stagione, un giudizio che si baserà semplicemente sulla promozione o sulla bocciatura in base al rendimento. È un video podcast che sarà abbastanza lungo perché visto la stagione 2020 di Formula 1 che è appena trascorsa c'è tanto da dire e non perdiamoci in chiacchiere e partiamo, sarà un'analisi dedicata ai gran premi che si sono svolte alle prestazioni di ogni pilota per ogni singolo gran premio in modo da dare un giudizio sulla stagione complessiva. Prima di partire con il pagellone però sottolineiamo una cosa importantissima in quest'anno 2020 che è stato tanto bistrattato e molto difficile per la pandemia da coronavirus, è giusto fare un plauso e una celebrazione a Liberty Media che è il patron della Formula 1 oramai da diversi anni che è riuscita a mettere in piedi un calendario di 17 gran premi, ovviamente ripetendo a volte la stesso gran premio sullo stesso tracciato però comunque è già stato un miracolo a mio avviso che il 2020 sia partito. In questo 2020 molto difficile per il mondo abbiamo celebrato in Formula 1 il settimo titolo del primo classificato ancora una volta mi verrebbe da dire della Formula 1, ovvero Lewis Hamilton che vince il settimo titolo del mondo, oramai è un abitué di questi titoli, è ovviamente una macchina di titoli. Lewis Hamilton ha vinto praticamente dal 2014 al 2020, praticamente sempre, eccezione fatta per il 2016 dove perse da un vero e proprio compagno di squadra, ovvero Nico Rosberg che poi si ritirò per il troppo stress occorso durante quella stagione del 2016. È stato un Hamilton onestamente ingiocabile, un Hamilton la cui stagione va assolutamente promossa perché già è il pilota oggettivamente più talentuoso in pista in questo momento, è il pilota che obiettivamente ha la macchina migliore, una Mercedes che era anni luce ed è anni luce avanti rispetto alle concorrenti, insomma ha ancora una volta fatto man bassa di titoli piloti e costruttori. Non ho mai visto come quest'anno però un Hamilton così dominante, così forte di testa, un Hamilton che ha veramente fatto quello che voleva e pur saltando una gara per Covid, il vantaggio che ha avuto sui suoi diretti avversari è stato oggettivamente mostruoso e spaventoso. Hamilton ha dato ancora una volta prova di essere un fuoriclasse e di essere un pilota che non si accontenta, perché anche dopo aver superato tutti i titoli che appartenevano a Michael Schumacher ha sempre voluto andare avanti, certo ha la macchina che se lo permette, però ovviamente non è da tutti andare avanti, c'è gente che obiettivamente si può anche accontentare, insomma ha dato più volte dimostrazione di forza, più volte dimostrazione di essere il pilota al migliore e il pilota da battere. Io ho una sensazione in realtà per i prossimi anni, ovvero che Hamilton non sarà presente in Formula 1 per quanto meno per molto tempo, un ampulce nell'orecchio mi suggerisce diciamo che potrebbe anche ritirarsi secondo me dal momento che effettivamente ha vinto setitudini del mondo come Schumacher, lo ha superato in numero di vittorie, lo ha già da tempo superato in numero di pole, certo il 2021 per Mercedes sarà un altro anno campale perché verosimilmente col fatto che il regolamento è congelato non ci dovrebbero essere problemi a un eventuale ottavo titolo di Hamilton per essere definitivamente considerato nell'Olimpo della Formula 1 come se non ci fosse già, però insomma anche dopo quello che è successo a Grosjean in Bahrain non ci può stare che Hamilton possa a un certo punto smettere di correre e di ritirarsi considerato che non ha il momento a oggi che sto facendo questo video, cioè giovedì, firmato il contratto nuovo e la sella, o meglio la sedia della monoposto di Hamilton in Mercedes è ancora vuota. A proposito di Mercedes, se ha promosso Lewis Hamilton si deve bocciare per forza di cose Valtteri Bottas, d'accordo che il finlandese è palesemente una seconda guida e non è un pilota che ha mai avuto chance vere e proprie di vincere il titolo si sta ripetendo forse anche in peggio quello che è successo ai tempi di Schumacher quando la Ferrari dominava e vinceva i mondiali con Barrichello insomma Bottas ha sempre avuto un trattamento di seconda guida e quest'anno si è giunto anche il fattore sfiga perché molte volte, o quasi tutte a dire la verità, tutte le volte che c'erano problemi sulla sua vettura capitavano al finlandese dove invece a Hamilton non succedeva assolutamente niente, non si rompeva niente e faceva le gare doppiando gli altri comunque in ogni caso Bottas è sembrato molto impotente e inerme in confronto alle situazioni che gli sono successe è vero, ha vinto due gare, ha fatto qualche podio, però anche nella gara di Abu Dhabi dove ha battuto Hamilton non è stato il miglior Bottas la gara del Bahrain 2 è la gara emblematica della stagione di Bottas, ovvero battuto dal terzo però tra Mercedes, ovvero Russell e c'è voluto un casino incredibile in casa Mercedes affinché Bottas arrivasse davanti a Russell che altrimenti quella gara probabilmente l'avrebbe anche vinta insomma anche Bottas viene dalla stagione peggiore della carriera considerato che ha la stessa macchina del campione del mondo che ha dominato gli avversari la Mercedes col potenziale che ha potrebbe fare tranquillamente primo e secondo in tutte le gare ecco con Bottas non è così perché Bottas già è un pilota di molto inferiore rispetto a Hamilton e anche a qualcuno della griglia, è comunque un buon pilota, una buona seconda guida in questo caso ma nulla di più, Deo Grazias che ha salvato il secondo posto ma è da bocciare lo stesso perché comunque in qualificazione Bottas raccoglie tanto, in gara molto meno e non è un pilota fermo anche il finlandese a differenza invece di Max Verstappen che si qualifica terzo, diciamo si classifica terzo meglio al termine della stagione, un pilota molto talentuoso, l'olandese che ancora una volta ha dimostrato di essere anche quadrato di testa rispetto agli esordi dove ne combinava di tutto e di più è un pilota che avesse avuto una macchina più affidabile, più veloce avrebbe probabilmente conteso qualcosa di più a Lewis Hamilton per quanto a mio avviso non lo avrebbe mai battuto però comunque è una stagione da promuovere perché Verstappen ha dimostrato di andare oltre la macchina inferiore perché la Red Bull è palesemente la seconda macchina di questo 2020 un Verstappen che sarà un grande avversario di Hamilton e degli altri contender quando Hamilton si ritirerà di qualunque mondiale a venire secondo me da qui in avanti è un pilota che è maturato, è un pilota veramente talentuoso speriamo che a Red Bull diano una macchina affidabile e che a lui diano una macchina affidabile in modo che possa finalmente centrare il primo titolo olandese della storia della Formula 1 in un futuro quarto classificato della classifica è Sergio Perez un Sergio Perez che va assolutamente promosso perché con una macchina inferiore come la Racing Point già fare un podio, una vittoria è qualcosa di veramente apocalittico ed è ancora più clamoroso il fatto che a oggi ovviamente Sergio Perez non abbia un sedile perché la Racing Point ha chiamato Hulkenberg quest'anno che ha disoccupato aveva Perez che è stato licenziato al posto di Perez Andrafettel e Perez ha salutato la Racing Point con la vittoria strepitosa in Bahrain che potrebbe garantirgli un sedile il prossimo anno ma non è certo visto che oramai l'unico sedile libero è quello della Red Bull a meno di cataclismi inenarrabili che non possiamo sapere è un pilota che comunque arrivato ai 30 anni c'entra la prima vittoria in Formula 1 è un pilota veramente talentuoso che potrebbe raccogliere di più nel corso della carriera non ci è riuscito ma questa stagione di Perez è assolutamente da promuovere così come secondo me è da promuovere Daniel Ricciardo che è un pilota che è vero ha raccolto soltanto due podi ma fanno tanto notizia secondo me i piazzamenti nelle prime 5 posizioni perché una Renault che fino all'anno scorso non era neanche la terza macchina in pista quest'anno di fatto se l'è giocata alla pari con Racing Point, con McLaren e questo è merito evidentemente grazie ai progressi di Ricciardo un pilota che l'anno prossimo andrà nella mia McLaren e questo sono veramente tanto contento ed è un pilota che anche lui con le giuste condizioni può fare più di posizionamenti in zona punti con costanza comunque Ricciardo va premiato per aver portato la Renault in questi due anni comunque pian pianino a crescere soprattutto dopo il disastroso anno 2019 sesto classificato è Carlos Sainz Junior che lascerà la McLaren l'anno prossimo e andrà in Ferrari Sainz poteva raccogliere probabilmente un pelino di più rispetto alle aspettative comunque la McLaren grazie a lui e a Norris è arrivata terza nel campionato team ed è veramente un qualcosa di meraviglioso la mia McLaren finalmente è tornata ai livelli che la competono quindi nelle prime tre posizioni del campionato costruttori ha fatto un podio a Monza, Carlos Sainz è un pilota comunque molto veloce un pilota che non ha ancora concretizzato tanto rispetto al talento che ha vedremo come si comporterà in Ferrari è una scelta interessante per la scuderia di Maranello perché avranno due piloti giovani e non campioni del mondo che potranno sicuramente regalare nel futuro tante soddisfazioni alla Ferrari sul merito della stagione di Sainz in McLaren c'è abbastanza poco da dire perché comunque la McLaren per quello che ha fatto ha comunque fatto una signora stagione secondo me e dunque entrambi in McLaren andranno promossi in particolare Carlos Sainz Junior che ha fatto sesto con una grande costanza a differenza del suo compagno di squadra Alexander Albon ecco questo invece è un giudizio abbastanza un po' sospeso perché Albon per quello che ha fatto soprattutto nelle ultime gare ha dimostrato di valere tanto certo non ha un compagno di squadra facile perché Verstappen è tutto purché un pilota che a seconda i compagni di squadra è un pilota molto accentratore Alexander Albon secondo me meriterebbe una chance ai Red Bull il prossimo anno perché comunque è un semidebuttante solo al secondo anno in Formula 1 e pretendere risultati subito al secondo anno in Formula 1 non è una grande scelta ok che parliamo della Red Bull e quindi le Red Bull di solito non hanno delle scelte incredibili dal punto di vista della gestione dei piloti Albon per quanto l'ho dimostrato sul campo tutto sommato non è da bocciare il problema è che con la stessa macchina ha preso paga dal suo compagno di squadra Verstappen che per carità è un fuoriclasse anche lui però insomma qualche podio Albon lo ha fatto e lo ha fatto nel momento che contava quindi da una stagione probabilmente fallimentare da bocciatura probabilmente il giudizio ha un po' migliorato una promozione stiracchiata vedremo se i risultati lo porteranno a confermarsi in Formula 1 nel 2021 parliamo di Charles Leclerc adesso che è l'ottavo classificato della classifica un Charles Leclerc che finisce ottavo dopo i fasti della stagione scorsa la Ferrari ha fatto tutte le modifiche che sappiamo ha creato una macchina fallimentare Binotto è sempre stato al centro di critiche pur di fatto mettendoci sempre la faccia in mezzo è un pilota Charles Leclerc che obiettivamente meriterebbe molto di più con oramai quello che ho determinato e nominato il carretto Ferrari Leclerc ha fatto quello che poteva oggettivamente però la stagione è fallimentare perché la Ferrari ha flopato in toto e se il progetto è sbagliato è ovvio che anche i piloti flopino ci sono comunque due podi che hanno del miracoloso comunque Leclerc sono convinti che quella macchina giusta potrà competere per un titolo del mondo e anche vincerlo non era questo l'anno però la Ferrari obiettivamente è indifendibile e fanno due stagioni fallimentari consecutive dopo quelle dello scorso anno nonostante comunque la Ferrari abbia vinto di più non ha posizione in classifica per Lando Norris che come ho detto prima per Carlos Sainz è da promuovere perché appunto avendo due piloti costanti sempre nei punti la McLaren è arrivata terza nella classifica dei costruttori e merito anche di Lando Norris che era partito a razzo con questo podio straordinario in Austria battendo sul filo dei centesimi Lewis Hamilton poi purtroppo si è un po' spento è tornato diciamo in auge nelle ultime gare facendo cinque prezzamenti a punti consecutivi è comunque un pilota molto giovane l'andone nazionale che potrà sicuramente crescere anche lui con una macchina come di Dio potrà dire la sua e dell'uomo su cui McLaren punta per i prossimi anni comunque oggettivamente Norris è da promuovere perché appunto con quella che poi è risultata la terza macchina in pista fare più di quinto in condizioni normali con di base le due Mercedes che dominano e qualche inserimento qua e là di Racing Point o Renault con sempre Verstappen ovviamente a contendere il podio insomma è difficile far di più la McLaren ha dimostrato di crescere e speriamo che possa crescere anche l'anno prossimo Pierre Gasly, decima posizione per lui Gasly è da promuovere assolutamente perché anche lui con una macchina nettamente inferiore rispetto alle altre ovvero l'Alfa Tauri è riuscito addirittura a vincere a Monza una gara leggendaria dove aveva momenti Sainz la vinceva in volata e insomma ha regalato tante emozioni Gasly è un pilota che è stato tanto chiacchierato perché era in Red Bull è tornato indietro ha vinto in Italia quest'anno a Monza e dunque si riparlava per lui di un ritorno in Red Bull Gasly invece rimarrà in Alfa Tauri l'anno prossimo insieme a Yuki Tsunoda pilota giapponese classe 2000 il primo 2000 della storia in Formula 1 al posto di un pilota di cui parleremo dopo Gasly comunque sarà l'uomo di punta della squadra B della Red Bull se così possiamo chiamarla e comunque l'Alfa Tauri non è una macchina scarsa perché comunque qualche piazzamento a punti anzi più di qualche in realtà lo ha fatto Gasly è un pilota talentuoso è una Formula 1 dell'anno prossimo che si presenta molto interessante perché ogni scuderia avrà il suo pilota di punta ma di quello ne parleremo nella presentazione del podcast Primaverile che arriverà probabilmente verso metà marzo soprattutto nel 2020 Gasly ha fatto il miracolo di Monza ha fatto addirittura poi altri piazzamenti nella top 10 con questa stanza addirittura c'è un'altra top 5 nei primi 10 di un mondiale secondo me non ci finisce per caso bravo Pierre Gasly lo rivedremo il prossimo anno promosso il buon pilota francese va bocciato comunque secondo me Lance Stroll e arriviamo di fatto alla seconda bocciatura di questo campionato Lance Stroll è un pilota che io non amo molto diciamo così è un pilota che l'ho sempre visto come il classico pilota pagante che è lì appunto per gli investimenti del papà Lorenz Stroll spesso ha dimostrato che è così qualche cosa in realtà nella carriera ha fatto Lorenz Stroll per essere onesti due podi quest'anno e qualche podio l'anno scorso già ai tempi della Williams però onestamente non è un pilota che a lungo andare merita di stare in Formula 1 è lì perché è il figlio del proprietario della Racing Point che l'anno prossimo diventerà Aston Martin e niente di più ha comunque una qualità Alan Stroll non è quella di essere ricco non solo ma è quella evidentemente di andare molto bene sul bagnato e la pole position della Turchia ne è la piena dimostrazione per quanto non l'abbia raccolto in gara però nonostante tutto questo il canadese dimostra di essere comunque un pilota ancora acerbo tra virgolette e di essere bocciato perché comunque con la stessa macchina del suo compagno di squadra davvero Sergio Perez insomma ha preso sberle dal messicano tra l'altro licenziato dalla stessa Racing Point 12esimo classificato è Esteban Ocon o come lo chiamo io Sebastiano Ocon è un pilota anche lui molto talentuoso che era in Forza India è andato a fare il terzo pilota Mercedes-Benz e poi è tornato in Formula 1 con la Renault ha preso sberle da Daniel Ricciardo ha fatto il podio in quella gara pazza di Bahrain 2 è un ritorno un po' sottotono secondo me comunque di Ocon mi aspettavo secondo me una prestazione migliore da parte sua un pilota che poteva tranquillamente arrivare nei 10 secondo me di una classifica di Formula 1 non ci è arrivato in realtà per tanti punti perché sono 62 contro i 75 di Gasly insomma rinviato a giudizio possiamo dire così Esteban Ocon perché insomma è vero ha fatto un anno fermo e questa è un attenuante però la Renault vedendo le prestazioni di Ricciardo poteva anche condizionare molto di più grazie a lui non è stato così rinviato a giudizio diciamo Ocon più bocciato che promosso bocciato in toto Sebastian Vettel e qui torniamo al discorso della Ferrari per vari motivi già Vettel aveva delle pare psicologiche di su evidentemente perché correva da separati in casa perché non ha accettato quel annuale offerto da Binotto lui voleva un biennale la Ferrari ha dato il ben servito e le prestazioni di Vettel si sono evidentemente riversate sulla pista prestazioni nella maggioranza dei casi anonime prestazioni spesso fuori dalla zona punti una fine ingloriosa mi verrebbe da dire per Vettel in Ferrari che ok è figlio anche del progetto sbagliato della rossa però anche Vettel spesso ci ha messo del suo perché al di là degli errori che ormai sono diventati dei meme ovvero il fatto che Vettel si gira spesso e fa la pista al contrario insomma sono ormai sotto gli occhi di tutti però spesso finiva ultimo tra quegli appunti in fondo alla classifica e ricordo che questo sarebbe un quattro volte campione del mondo che quest'anno prendeva 40 milioni insomma prestazioni che non giustificano per niente lo status di superstar che Vettel si è guadagnato con i mondiali in Red Bull Vettel lo vedremo l'anno prossimo in Aston Martin sperando che possa bastonare Stroll e puntare a risultati decenti al di là di questa Ferrari disastrosa Daniel Chiat è stata questa probabilmente l'ultima stagione di Torpedo in Formula 1 una stagione per la verità anche per lui abbastanza in colore perché sono state più le volte fuori dai punti che quelle dentro c'è l'expload del quarto posto a Imola ma lì ci fermiamo per il resto una stagione sottotono per Torpedo pilota molto anonimo quest'anno purtroppo do una bocciatura al secondo pilota dell'Alfa Tauri che sarà appunto sostituito da Yuki Tsunoda come dicevo prima vedremo se negli anni futuri se dovesse domani espandersi una Formula 1 cosa ci sarà e se ci sarà soprattutto spazio per Chiat quindicesimo è Nico Hülkenberg che facendo due gare di fatto perché una non l'ha disputata è arrivato davanti a tanti piloti per la verità in classifica quelli prevalentemente motorizzati Ferrari e le due Williams Hülkenberg ha fatto il pilota di riserva di Racing Point un pilota che ha dimostrato che in Formula 1 ci può stare eppure misteriosamente l'anno prossimo non ci sarà verosimilmente anche per lui si parlava del Red Bull per via di essere una palese seconda guida e amico di Verstappen poi Perez ha vinto in Bahrain e si parlava di Perez adesso Albon ha fatto bene e se ne parla di Albon insomma per una balla o per l'altra il buon Nick Hülkenberg rischia di stare a casa anche l'anno prossimo e vedremo se ci sarà spazio in futuro per lui anche se oramai Hülkenberg si avvicina oltre le 30 primavere e vedo per lui più un futuro nella categoria del World Endurance Championship dove tra l'altro ha già vinto la 24 ore di Le Mans peccato veramente perché a me Hülkenberg è sempre piaciuto e per quei due prezzamenti a punti in due gare disputate di fatto è da promuovere Kimi Raikkonen soffre molto la prestazione deludente di tutti i motorizzati Ferrari e qui ci atteniamo alla coerenza se la Ferrari ha fatto schifo di riflesso fanno schifo anche i motorizzati Ferrari quindi Alfa Romeo e Haas Raikkonen è da bocciare perché comunque ha dimostrato di è vero guidare una macchina inferiore che più di tanto non poteva fare però parliamo di una macchina che era sempre in fondo alla classifica e di fatto non è diciamo degno per Raikkonen terminare spesso in fondo alle retrovie in generale lui paga la stagione infelicita dell'Alfa Romeo e dunque sia lui che purtroppo Antonio Giovinazzi sono da bocciare oggettivamente perché se per Antonio si può parlare comunque di un percorso di crescita dopo l'anno scorso per Raikkonen invece l'ennesima stagione in Formula 1 la prima probabilmente veramente fallimentare ai tempi appunto della Sauber degli inizi anni 2000 per Giovinazzi comunque ci sono gli stessi punti di Raikkonen in qualificazione Giovinazzi ha dimostrato di quest'anno soffrire tanto il lato positivo di Giovinazzi sono state le grandissime partenze però purtroppo anche lui paga una stagione deficitare dell'Alfa e per meriti tecnici Giovinazzi è da bocciare comunque sia Raikkonen che Giovinazzi li vedremo il prossimo anno e vedremo se l'Alfa potrà schiodarsi dal fondo della classifica George Russell ci sono due punti per lui in carniere anzi tre considerato il giro veloce di Sakir sono i primi punti in carriera per lui è un pilota molto talentuoso che con il carretto della Williams o Williams a Carbonella chiamatela come volete che noi tutti amiamo ha fatto qualcosa di allucinante perché la Williams è migliorata quest'anno rimaneva sempre la macchina peggiore del lotto al pari con l'Alfa è riuscito a fare dei punti in una gara che poteva vincerla comunque Russell è da promuovere perché è un mio pupillo da diverso tempo fin dalle categorie minori Russell ha dimostrato di saperci fare di avere un talento puro e anche lui sarà nel novero dei ragazzini terribili che un domani si giocheranno il titolo del mondo e probabilmente anche vincerlo ha sempre battuto i propri compagni di squadra l'anno scorso Kubica quest'anno Latifi sono arrivati per i punti della carriera l'anno prossimo dovrebbe rimanere ancora in Williams qualora Hamilton non si ritiri e vedremo cosa si comporterà nell'anno prossimo appunto il buon pilota inglese Romain Grosjean su Grosjean vanno dati due voti oggettivamente perché tecnicamente la Haas è da bocciare tutta esattamente così come l'Alfa Romeo Grosjean come persona va promosso assolutamente in quanto miracolato di quel fatidico incidente che a momenti gli toglieva la vita in Bahrain già a vederlo uscire vivo dopo quei 28 secondi terrificanti dalle fiamme è stata la notizia del 2020 per lui e per tutti gli appassionati di Formula 1 quindi un grosso in bocca al lupo a Romain Grosjean che probabilmente si ritirerà del tutto dal mondo delle corse anche per volere del figlio che gliel'avrebbe chiesto al termine diciamo della riabilitazione dopo il grande incidente un grosso in bocca al lupo a Romain Grosjean per il proseguo della vita evidentemente e vedremo cosa farà se correrà in altre categorie la vedo difficile perché un incidente del genere evidentemente ti segna tanto Kevin Magnussen chiude la sua ultima stagione in Haas e probabilmente anche in Formula 1 con un solo punto alla terza gara e poi anche lui finisce sempre nelle retrovie un po' nel marasba generale degli altri motorizzati Ferrari tra Haas Alfa Romeo e le Williams insomma è una gara al ribasso anche Kevin Magnussen in realtà è da bocciare anche lui lascerà la Haas che ha preso Nikita Mazepin e Mick Schumacher quindi si punta sui giovani dopo anni di piloti veterani che hanno portato oggettivamente poco vedremo quale sarà il futuro del figlio di Jan in altre categorie motoristiche ultimo classificato dei piloti regolari è Nicolas Latifi l'unico rookie in gara quest'anno nel 2020 e effettivamente a lui va il primo di rookie dell'anno perché gli altri sono subentrati in corsa stagione in colore per il canadese altro pilota pagante che veniva dalla Formula 2 è lì semplicemente perché la famiglia Latifi è azionista della Williams in ogni caso Latifi ha fatto una serie di apprendistato sempre nelle retrovie tranne in due occasioni non ha mai avvicinato la zona punti insomma lo rivedremo l'anno prossimo ma anche Latifi è da bocciare senza voto gli ultimi classificati della collaboratoria di Formula 1 ovvero Jack Aitken e Pietro Fittipaldi Jack Aitken ha esordito in Formula 1 a Sakirin Bahrain peraltro battendo Latifi che si era ritirato e battendo anche l'altro esordiente ovvero Pietro Fittipaldi che invece lui di gara ne ha fatte due comunque anche lui si è rivelato essere un pilota da fondo classifica ma all'esordio assoluto oggettivamente non si può pretendere di più in ogni caso questo è stato il pagellone del 2020 della Formula 1 che va dunque ad aggiungersi ai pagelloni di MotoGP e Superbike che ho già fatto nel mio canale fatemi sapere cosa ne pensate per questa stagione per questo 2020 i video sulla Formula 1 terminano qui che torneranno ovviamente in primavera con la stagione 2021 come al solito a metà marzo ci risentiremo su questo argomento perché ci sarà da presentare la stagione della Formula 1 delle nuove Formula 2 e Formula 3 nonché della W Series che andrà a sostenere la Formula 1 come categoria di supporto i video comunque sul canale nel periodo invernale non mancheranno perché ho inaugurato qualche giorno fa il Nordic Podcast dove parleremo degli sport FIS in particolare sci nordico specialità salto con le scie combinata nordica che in questa stagione 2020-2021 avranno degli appuntamenti ridati ci saranno anche video sulla Free Agency MLB come l'anno scorso insomma qualche contenuto ci sarà magari non così tanto però anche nell'inverno voglio tenere attivo un canale che comunque in quasi due anni è raddoppiato ogni anno che passava il numero degli iscritti seppur in misura minore ma il bello di un canale ammatoriale come questo è quello di fare quello che uno piace con tanta libertà e anche attirando poche persone tra di voi che guarderanno mai questo video se anche uno solo di voi apprezzasse il lavoro questa cosa è assolutamente gradita e spinge ad andare avanti in ogni caso nel merito del Racing Podcast fate in più di cosa ne pensate la stagione 2020 del Racing Podcast termina qui l'appuntamento sarà evidentemente prima del Gran Premio d'Australia a metà marzo con la Formula 1 e poi via via con tutti i campionati motoristici il saluto da parte di Metodo Allgard vi auguro buone feste comunque il prossimo video sul canale sarà il 27 dicembre per lo sport invernale che vi dicevo il salto con gli sci che ci sarà una manifestazione importante quindi state sintonizzati su queste frequenze per usare un termine radiofonico e ci vediamo presto a un prossimo video a un prossimo video